Saranno celebrati oggi alle 18 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma i funerali di Giuseppe La Rosa, il capitano messinese rimasto vittima di un attentato in Afghanistan, il 53esimo militare che ha perso la vita dall'inizio della missione nel 2004. La salma è arrivata questa mattina alle 9.30 all'aeroporto di Ciampino. Accanto ai familiari erano presenti il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, il Ministro della Difesa Mario Mauro e alcuni rappresentanti istituzionali e militari. Dopo il saluto ufficiale, la Bara rientrerà a Barcellona Pozzo di Gotto, terra di origine di Giuseppe La Rosa, e dove domani si svolgerà la cerimonia funebre privata per parenti e amici del giovane. Aveva solo 31 anni, ma una lunga carriera alle spalle. Questa infatti era la sua seconda missione in Afghanistan, dopo le precedenti tre nei Balcani. Stava rientrando alla base quando una bomba in mano è stata lanciata all'interno del mezzo nel quale viaggiava. Giuseppe è morto sul colpo, gli altri tre militari che erano con lui sono rimasti feriti, hanno riportato traumi e lesioni, ma nessuno è in pericolo di vita. Assicurano lo Stato Maggiore della Difesa.